buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv leggeremo insieme i giornali come tutte le mattine oggi è giovedì 8 giugno 2023 ebbene il calendario liturgico ci evidenzia che oggi si festeggia san medardo è uno dei più illustri vescovi della francia del sesto secolo resse le diocesi contemporanee di noyon et tourney alla sua morte fu universalmente compianto da tutti i francesi per la santità della sua vita e per le opere che aveva fatto a beneficio degli altri questo è san medardo ma ora vediamo le previsioni del tempo ecco qua la grafica e vediamo che ci saranno nubi in progressivo momento con deboli piogge al pomeriggio è una giornata quindi incerta altalenante per quanto riguarda il sereno e le nubi il brutto tempo schiarite in serata i venti saranno al mattino e al pomeriggio deboli da nord nord est il mare è quasi calmo e le temperature sono leggermente aumentate per quanto riguarda la massima e diminuite per quanto riguarda la minima quindi c'è una escursione termica leggermente superiore 16 gradi la minima 24 la massima questo in sintesi le previsioni del tempo di oggi comunque speriamo che sulle coste almeno almeno sulle coste dato che le attività balneari sono già iniziate ci sia bel tempo allora questa mattina iniziamo la nostra lettura la lettura dei nostri giornali sul resto del carlino la pagina di fano ecco qua il titolo di apertura è un titolo di apertura che anche condivide il corriere adriatico palazzine emergenze ecco come sarà la palazzina delle emergenze e urgenze è il più grosso investimento che la giunta regionale si appresta a fare sull'ospedale di fano l'ospedale santa croce sottoscritto l'accordo di programma tra regione comune e azienda sanitaria territoriale raddoppiato l'investimento pronti 25 milioni e questo dimostra l'entità dell'investimento sarà un edificio di quattro piani 1070 metri quadrati e sorgerà nell'attuale parcheggio a servizio del pronto soccorso mentre l'area verde che si trova lì vicino l'area verde adiacente di oltre 5 mila metri quadrati sarà autorizzata per i posti auto con un corridoio di collegamento tra via vittorio veneto e via pizzagalli ma la novità di questa struttura è che le ambulanze torneranno ad accedere al pronto soccorso di via vittorio veneto ora invece dovevano fare il giro per entrare dal dietro dell'ospedale ora invece si ritornerà all'inizio e poi c'è anche una data per quanto riguarda l'inaugurazione della pista ciclabile dell'Arzilla questa infrastruttura non poco contestata per il modo con cui è stato così impattato l'ambiente ciclabile dell'Arzilla apertura a metà da venerdì 16 giugno verrà aperto un primo tratto il resto dell'intervento verrà finito a settembre e quindi anche questa infrastruttura si mostra ormai disponibile a tutti coloro che vorranno così transitare in sicurezza dal quartiere della Paleotta all'Ido di Fano all'Ido e anche all'Arzilla sono le due spiagge più frequentate dai giovani stalking e violazione di domicilio siamo arrivati alla cronaca il presidente del camping club di Fano si tratta di Paolo Di Otalevi e la sua signora la moglie Mirella Mattioli di 63 anni sono stati denunciati per violazione di domicilio e di stalking i due erano in lite con un'altra famiglia era anche questa parente erano parenti insomma litigavano da anni ebbene schiaffi al nipote irruzione nella taverna addirittura minacce di imbracciare il fucile liti un po futili perché venivano imbastite dal fatto per il fatto che la tv doveva essere spenta perché era tardi insomma queste questioni di liti tra vicine ebbene tutto è stato poi portato davanti al giudice il 67enne fanese di Otalevi è stato condannato a un anno e due mesi revocato anche il porto d'armi mentre otto mesi per Mattioli per Mirella Mattioli al primo dicevo è stato revocato il porto d'armi e sequestrato i fucili dovrà frequentare un corso di recupero a Padova di un anno mentre la moglie un corso di recupero di sei mesi alla cooperativa Labirinto abbiamo poi a fondopagina del Carlino un'intervista a Teodosio Auspici si ribella, ribella e posto tra virgolette perché è il titolo di una nuova lista civica che dovrebbe presentarsi alle prossime elezioni amministrative e ovviamente Teodosio Auspici attacca la giunta seri dicendo che insomma ha combinato un disastro ecco in parole povere per sintetizzare quello che dice Teodosio in questa intervista e poi ieri è stata presentata una serie di concerti veramente molto molto accattivanti che si svolgeranno in due luoghi molto belli della città di Fano alla Corte Malatestiana e alla Rocca Malatestiana si tratta del Symphony Pop Festival un tuffo nel Mar dei Caraibi sì perché una delle iniziative che presenta il festival è quella di proporre la musica cubana proporla con una delle cantanti più note della musica cubana al mondo si tratta di Ayla Monpli una cantante che fa veramente vibrare il pubblico di emozioni quando interpreta le sue canzoni e poi un'altra presentazione quella di una nuova edizione di Centrale Festival Fotografia la rassegna di fotografie più importanti realizzata da un'associazione che a Fano ha raggiunto un livello molto importante si tratta ora della quattordicesima edizione di questo evento si tratta di fotografia e arte contemporanea a cura di Luca Panaro e Marcello Sparaventi che si svolgerà ugualmente alla Rocca Malatestiana a partire da domani alle ore 21 un altro articolo di apertura questa volta siamo a Torre Roveresche bimbi, anziani e disabili giocano la partita più bella ebbene si tratta della decima edizione di Gioca Insieme è una edizione che ha messo insieme è molto inclusiva questa iniziativa che ha messo insieme tre generazioni dai bambini della scuola primaria di Orciano dell'istituto comprensivo Gio Pomodoro ai nonni della locale casa di riposo Merlini Ciavarini Doni passando poi attraverso i ragazzi e gli adulti che frequentano ben dieci centri diurni del comprensorio e la COALA ovvero la cooperativa Handicap e Lavoro ebbene ieri il campo sportivo di Orciano ha ospitato questa bella manifestazione a cui è intervenuto anche Dino Latini presidente del Consiglio regionale delle Marche teniamo ancora la pagina siamo a Urbino Urbino che festeggia 25 anni di adesione ai siti al patrimonio dell'UNESCO diciamo meglio 25 anni di cultura iniziative dell'amministrazione comunale per la ricorrenza e poi ci sarà anche un forum sul patrimonio dei beni per quanto riguarda i beni dell'umanità sono delle belle manifestazioni che evidenziano sempre più come questa cittadina del Montefeltro assuma un rilievo molto importante non solo nella cultura italiana ma nella cultura internazionale e poi vediamo un appello un appello fatto da May della Udc per quanto riguarda lo stato di abbandono di molte case dell'entroterra ebbene trasformiamo queste case per i turisti e il presidente provinciale di questo partito dice c'è un patrimonio abbandonato nell'entroterra bisogna recuperare gli edifici abbandonati per attrarre flussi di gente la proposta è quella di rendere fruibili anche vecchie caserme della guardia forestale i ricoveri per il fieno e i casolari sono pochi gli stranieri che hanno acquistato delle abitazioni nel nostro territorio perché affascinati dalle colline della provincia di Pesaro Urbino in prossimità del mare un territorio molto vario molto etereogeneo ricco di cultura ricco di ambiente che è stato per fortuna nella maggior parte preservato la nostra sanità ha bisogno di bravi dirigenti dice oggi il resto del carlino lo dice anche i cancellieri consigliere regionale della Lega l'azienda Marche Nord si unirà alle strutture dell'ex area vasta 1 ed ora vediamo anche un articolo che riguarda a fondo pagina del resto del carlino per Piobbico Piobbico ospita un istituto alberghiero veramente importante non solo lezioni teoriche in aula ma anche pratica all'ipermercato e si è concluso con successo il progetto di collaborazione tra gli allunni della scuola e la società che gestisce il CONAD il rapporto tra scuola lavoro e tra scuola e territorio è veramente sempre più importante per preparare i ragazzi poi alla futura vita vediamo anche qualche notizia di Pesaro che il resto del carlino pubblica e cominciamo con la cronica perché si evidenzia il successo di un'operazione investigativa molto importante la finanza arresta mister slot machine vinceva colpo sicuro con delle password che erano piratate insomma aveva delle password che assicuravano le vincite al momento sicuro lui è Danilo Madonna 37 anni era un residente di Pesaro è stato ora portato ai domiciliari insieme a due complici due complici di 45 anni e di 40 anni entrambi disoccupati ma molto molto attivi nel giocare a colpo sicuro nelle slot machine di mezza Italia ebbene indagata anche la compagna la suocera per soldi nei conti malgrado fosse indagato da già dal febbraio 2022 sembra che fosse stato individuato anche dalle Iene ebbene ha continuato la sua attività quella volta quando fu indagato gli furono sequestrati 40 computer quindi vedete come si organizzava per individuare le password e poi fare delle vincite particolarmente sicure vediamo qui anche l'articolo che riguarda le Iene le Iene lo avevano già scoperto ci sono arrivate grazie ad un ex complice e poi vediamo la reazione della politica alle dichiarazioni del SIN dell'assessore regionale Stefano Aguzzi per quanto riguarda tutta la vicenda di Marche Multiservizi oggi insorge Andrea Biancani consigliere regionale del Partito Democratico che punta il dito appunto proprio su Stefano Aguzzi e sull'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli per il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli Marche Multiservizi contro i muri per una sbatte contro i muri per una mancata trasparenza e poi vediamo come la provincia non si rassegna per la limitazione a soli sette comuni dello stato di emergenza degretato dal governo e quindi il presidente Giuseppe Paolini fa le valigie e va a Roma deciso appunto a chiedere una dimostrazione di diciamo così di interesse più larga rispetto a quella che è stata dimostrata Paolini dice la Premio Meloni pronta a considerare anche altri comuni questa è una speranza speriamo che si concretizzi solo il conto della viabilità disastrata dalle frane supera i 25 milioni di euro soldi che la provincia non ha già è stato speso un milione ma intanto si attendono le misure efficaci per provvedere la messa in sicurezza di tutte quelle infrastrutture che il maltempo ha danneggiato ancora altre notizie di cronaca tre cameriere ma tutte in nero i carabinieri fanno chiudere l'hotel si tratta di un albergo di gabice con il 100% del personale fantasma tre lavoratrici cameriere ai piani tutte e tre in nero 9 su 14 invece gli irregolari scoperti in un laboratorio tessile cinese dopo che l'hanno fatto a Senigallia contemporaneamente non dopo ovviamente anche nella provincia di Pesero la guardia di finanza ha fatto dei controlli a tappeto e ha individuato queste irregolarità diamo ora un'occhiata al corriere adriatico l'apertura come vi avevo annunciato è dedicata alla nuova palazzina che è stata approvata per il Santa Croce fondi raddoppiati l'edificio delle emergenze costerà 23,5 milioni di euro pensate un investimento particolarmente ingente superiore al contributo che la regione si era così dimostrata disponibile a dare per raggiungere meglio l'ospedale di Pesero che poi la giunta fanese dovrebbe utilizzare per completare l'interquartieri l'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli soluzioni tecniche innovative e qui vediamo anche un rendering di questa nuova palazzina che dovrebbe sorgere come vi ho già detto nel parcheggio vicino all'entrata dell'attuale pronto soccorso stalking dei vicini costretti a vendere la casa coppia di 68 e di 63 anni ha patteggiato la pena di oltre un anno a testa per le solite liti familiari di cui vi ho detto invece un articolo interessante è quello che riguarda una nuova riunione dei residenti di Carrara in merito alla destinazione dei soldi che Terna l'azienda che si occupa dell'elettricità a livello nazionale si è mostrata disposta a dare per ripagare un po' la frazione dai danni esercitati per l'ampliamento della centrale elettrica e la realizzazione dell'elettrodotto Adriatic Link i soldi di Terna dicono i carraresi devono restare a Carrara adesso c'è una duplice polemica innanzitutto quella di insistere nei confronti di Terna per avere questo contributo e poi adesso un'altra un altro canale si è aperto verso l'amministrazione comunale amministrazione comunale che intende utilizzare parte di questi soldi per finanziare il progetto dell'ampliamento della biblioteca federiciana secondo il progetto Cucinella un progetto molto importante molto bello dobbiamo dire ma che costa parecchio 10 milioni e mezzo 4 milioni appunto di Terna dovrebbero essere finalizzati a questo progetto in realtà i cararesi non sono affatto d'accordo non vogliono che questa distrazione sia fatta e vogliono che tutti i soldi vengano utilizzati nella loro frazione e ieri l'altra sera l'altra sera c'è stato un incontro di tutto il comitato dei cararesi che intendono appunto mettere al corrente l'amministrazione comunale di tutte le loro richieste e ci sarà anche una riunione almeno così è stata richiesta dei capigruppo per far sì che in consiglio comunale le istanze dei cararesi vengano accolte Centinarola non pensa alla variante e fa festa da oggi inizia la festa dei fagioli e della trippa a Centinarola una festa una sagra una festa gioiosa che fa un po' dimenticare la delusione di molti centinarolesi per quanto riguarda la vociatura della variante con l'ampliamento della scuola e la realizzazione di un supermercato ma oggi si fa festa si comincia con i giovani una bella serata al suono dei DJ e poi ancora tanti stand gastronomici con questi due piatti della tradizione marchigiana trippa e fagioli ma non mancheranno poi tagliatelle piadine insomma tutto il contorno che dà gioia a un momento di felicità insomma di serenità ci saranno poi alcune attrazioni che renderanno ancora più interessante la festa e ieri questa iniziativa è stata presentata nella sede dell'ufficio turismo in piazza 20 settembre a Fano dall'assessore Etienne Lucarelli e da tutti i partecipanti i componenti dell'associazione Viviamo Centinerola che vediamo qui in questa piccola foto restiamo a Fano per presentare un'altra iniziativa un'altra iniziativa che riguarda il canto corale ebbene Fano ha vanta una lunga tradizione del canto corale soprattutto quello religioso che corredava i riti che si celebravano soprattutto in Duomo dove c'era una cappella musicale che era diretta da maestri veramente importanti uno di questi è un Giuseppe Ripini un compositore un compositore che è stato riscoperto sfogliando i documenti dell'archivio di Ocesano ed era un compositore molto molto noto ebbene i suoi brani saranno rivisti saranno rietualizzati e saranno riproposti dalla cappella musicale del Duomo quindi una bella iniziativa sabato in cattedrale l'edizione critica delle opere di Ripini morto due secoli fa 1700 aspettiamo l'autovelox per ridurre i pericoli lo aspettano i residenti di Fossombrone dopo la decisione favorevole del comune che ora contano su via libera della prefettura si tratta di un tratto di strada molto pericoloso quello che va a Pian Cerreto e San Martino del Piano lungo la Flaminia che attraversa il centro abitato di Fossombrone per sei chilometri quindi attenzione anche qui se verrà accolta questa istanza verrà posto un autovelox a Mondolfo l'azienda sanitaria garantisce le domeniche per quanto riguarda la guardia medica il sindaco dice però così non basta verrebbero coperti soltanto i turni estivi dalle 8 alle 20 c'è la delusione del sindaco Barbieri perché insomma Mondolfo è uno dei quattro comuni è il quarto comune più importante della provincia e certo meriterebbe più attenzione da parte della sanità vediamo anche le notizie di Senigallia allarme rosso il pronto soccorso scoppia in un turno un solo medico per 36 pazienti l'azienda sanitaria ha chiesto la disponibilità di camici bianchi di rinforzo oggi l'assegnazione pensate un solo medico per 36 pazienti che cosa vuol dire ci saranno pazienti con esigenze molto lievi altri invece in stato grave e un medico deve concentrarsi su ognuno di questi insomma la cosa non è facile pensate che in totale in tutto l'arco della giornata sono stati 90 i pazienti che hanno transitato per il pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia e poi vediamo come per quanto riguarda il settore dell'arte e della cultura un bel successo da parte dei carabinieri che hanno recuperato in Abruzzo due tele rubate alla chiesa della Madonna del soccorso nel 1997 insomma c'è voluto però insomma il risultato è stato raggiunto e qui vediamo il comandante dei carabinieri che consegna uno dei quadri rubati a Don Mario Camborata che è appunto il parroco della chiesa passiamo ora su Pesaro e vediamo come l'apertura è dedicata è dedicata alla diciamo così allo spostamento della ferrovia dalla costa verso l'entroterra nessuno tocchi quelle risorse e il titolo o si rischia la rivolta popolare dunque l'arretramento della ferrovia previsto un miliardo 688 milioni 774 mila 242 euro pensate come è ingente l'investimento questo è il totale dei finanziamenti ottenuti il sindaco Ricci dopo l'accordo depositato alla Camera tra le ferrovie dello Stato e il Ministero insomma fa scudo nei confronti di queste risorse perché non devono essere poi distratte spostate da una parte e dall'altra ma devono rimanere lì per finanziare questo progetto che è vitale per lo sviluppo della nostra provincia sappiamo come l'arretramento interessi anche Fano e ancora qualche località più a sud delle maghe più a sud appunto del comune dal governo a aperture per la nostra provincia i danni del maltempo a Paolini Speranzoso dopo il summit a Roma e di questo abbiamo parlato vediamo un'ultima notizia un'ultima notizia prima di chiudere vediamo un articolo che riguarda Marche Multiservizi l'amministratore Tiviroli in conflitto con la politica dice che la legge che la legge è consente di realizzare questa nuova discarica nel territorio che è stato individuato però tre vicende pesano sulla sua gestione come ho detto era l'ultima notizia adesso chiudiamo i giornali io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti grazie a tutti